Salve a tutti, sono Cecilia Beretta, neo addetta stampa di Vicenza Calcio Femminile, in diretta dal campo comunale di Via Zanekin. Il mio ruolo è quello di gestire i rapporti della società con i media per diffondere gli importanti obiettivi che la società si propone. Diventare una squadra di Serie A1 in primo luogo, con tutti i valori sui quali la società si fonda, determinazione, forza di volontà, amicizia, divertimento e molto impegno. Ma anche la formazione di un solido settore giovanile, costituito dalle calciatrici del domani, del quale ho qui vicino a me una giovane esponente, Giorgia Panozzo. La società, inoltre, costa già di quattro squadre, ma è nostro desiderio incrementare la partecipazione a questo bellissimo sport, anche a Rosa. Sognare e disegnare è il nostro slogan, che io, insieme al Consiglio Direttivo e lo staff tecnico, rendo mio. Continuate a seguirci e a tifarci. Grazie.